Perché preferisco la scuola al TAV Per difendere la nostra terra Perché quei giorni c'eravamo tutti Per un trasporto pubblico efficace Perché il TAV è uno spreco di denaro pubblico Perché non ci ruberete il futuro Perché siamo tutti colpevoli di resistere Perché tutti insieme siamo imbattibili Perché la salute è un diritto Perché se lo mangi è veramente impossibile